Per la categoria Young, Jason Barrano. Abbiamo il campione qui con noi che ci racconta un duello avvincente che ci ha tenuto incollati come nella categoria expert. Raccontaci Jason, che è successo? La prima match mi è andata bene perché ho fatto il primo, ma la seconda match l'ho combattuta con il KTM. Abbiamo visto che c'avevi dietro un'ombra, prima davanti, poi hai fatto un buon recupero e hai sorpassato e sei andato a vincere, giusto? Sì, ho fatto il primo. Era una pista veloce, ti ci trovavi su questo tipo di pista o preferisci quelle un pochino più tecniche? Sì, mi è piaciuta. Ti è piaciuta? Sì, solo che c'erano poche curve, troppi rettini. Si è bucata parecchio, ci hanno detto. Sì, ho fatto tutte le curve. La seconda match forse è stata anche per quello che ha avuto un pochino più di difficoltà. Sì, ma mi sono divertito di più, c'era più da giocarsi. Ho capito. Allora ci vediamo il prossimo anno e continua così, mi raccomando. Forse cambio categoria degli amatori. Ecco, finalmente una novità, bravo, meno male. Con un Suzuki. Con un Suzuki? L'avete già comprato? No, adesso andiamo a vedere. Bravo, bravo. Allora ci vediamo col nuovo Suzuki e speriamo di inaugurarlo subito con una prima posizione. Ok. Ciao Jason. Ciao.